Uno dei compiti di Pallet era spedire 20 milioni di dollari oltreoceano ogni tre mesi e lui ha pensato di fare uno scambio. Valdivia ha fatto l'errore di spenderli troppo presto e Pallet, per non essere scoperto, lo ha ucciso. Sì, sto uscendo, arrivo. Operativo nato. Comincia a piacermi. Signor Cullen? Eddie! A parte le congratulazioni più che meritate, c'è ancora un problemino in sospeso. I soldi? I soldi. Oggi stesso, signor Cullen. Stranamente il dipartimento del tesoro li rivuole. Fatto. Non li conti? Allora, andiamo a farci un hamburger o tu preferisci il servizio in camera? Io ho una regola. Ma è storico le poliziotte. Vuoi dire che devo aspettare di andare in pensione? Eh sì. Me lo scrivo sul calendario. Però potresti andare in pensione anticipata. Magari lo farò. Doveva essere una grande poliziotta. Lo era. Non. Viviano. No. Ma.